Gioca su sisalpoker.it, Real Poker, Real Fun Emanuele Marzano per tutti e Rebels è uscito male, come poi quando si esce è un classico, dal tornino del 2005 Non Limit Freeze Out Cosa è successo intanto? Ci sono state due mani abbastanza importanti, per le prime due ore ho giocato molto aggressivo più del solito Anche perché è stato aiutato da buone carte, quindi avevo un'immagine particolarmente aggressiva Ho perso mano grossa, trivettando il cutoff, era bottone con asso K, è tipo la terza volta che lo trivettavo solo lui Mi chiama il big blind e il pot era già abbastanza grosso, quindi scende K10-6 con due quadri Lui cecca il cibetto, lui colla e chiama Taran 2, che non completa neanche la draw, quindi è abbastanza rinfluente Lui cecca, lo metto lì per le sue restanti, che era circa il piatto E va asso a asso, quindi ho perso questa mano un po' grossa Però comunque ho finito da prendere due ore con lo stack di partenza, quindi ho già circa 7.000 chips E dopo ho perso un paio di mani rilanciando e foldando il flop Quindi stavo circa sulle 6.000 qualcosa, a bui 7.550 Da small blind rilancio 400, mi chiama il big blind Ho 10-10, su flop 9-6-2, rainbow, sembra buono Betto un poco più di metà nel piatto, lui chiama Taran 2, che anche questo sembra una buona carta C'è lui Betta, io vado l'in, e lui mi chiama istantaneamente con asso 2 off Quindi aveva preso trips al turn, che vabbè, insomma, non è proprio un'ottima giocata neanche questa Comunque è già successo una cosa simile al torneo da 3.000, in cui avevo preso top 2 E il mio versore mi ha chiamato con 2-2, ha fatto set al turn Insomma, poteva andare meglio, però vabbè Ma com'è che questa gente si gioca migliaia di dollari E poi queste giocate, che se le fanno, le fa uno, in un sito in goda 50 centesimi Su Sisa gli danno del matto Eh vabbè, alla fine insomma, sono tornei da 2.000, fino a 6.000 persone normale Che non siano, per fortuna nostra, che la maggior parte delle persone non sia bravissima Però poi ovviamente facciamo le conseguenze Quando va così, è un periodo abbastanza brutto per me Però, insomma, vediamo se abbiamo il main event Speriamo bene Gioca su sisalpoker.it Real poker, real fun